Il Museo Amaranto ha consegnato i riconoscimenti annuali dei premi relativi alla stagione 2022-2023 che si sta per concludere. Il premio Lauro Minghelli, assegnato al miglior Under 23, è stato ritirato dal terzino Samuele Zona, mentre il premio Rovesciata d'Oro, destinato al giocatore da rendimento più alto nel corso dell'annata sportiva, è andato al centrocampista Luca Castiglia. Una bella soddisfazione ricevere questo premio, soprattutto perché so quello che ha rappresentato per Arezzo, per i tifosi Lauro, e quindi sì, è stata una bella soddisfazione. Un gesto bellissimo, no? Che dico la verità, non è che mi appartiene più di tanto, forse più degli attaccanti, però comunque mi fa molto piacere questo premio. Essere premiati vuol dire comunque che ti riconoscono un merito, il tuo lavoro, quindi sono molto contento. Durante la serata, infine, si è svolta anche la premiazione di Costanza Razzolini, attaccante dell'Arezzo Calcio Femminile, che si è messa in luce nel campionato di Serie B. A lei è stato assegnato il premio Chimera Maranto, quest'anno alla sua prima edizione. Sicuramente fa molto piacere, per me è un onore essere qui stasera, essere premiata per la prima volta con questo grande riconoscimento. Un grazie a tutti e mi fa molto piacere.